In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Val di Sole e Ponte di Legno Tonale. Schirama Dolomiti Adamello Brenta Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi, festivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori tv privata italiane, diverse tv nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportador.tv, sulle più importanti smart tv europee di ultima generazione. Venite con noi e mi raccomando sciate sempre con Sportador.tv. Un saluto a tutti gli amici di Sportador.tv, seguiteci! In questo servizio parliamo di storia turistica, di storia invernale ed estiva. Qui parliamo degli Asburgo. Siamo a Madonna di Campiglio, una stazione turistica importante scoperta, pensate, dalla famosa principessa Sissi nel 1800. La famosa moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe Sissi veniva qui a Madonna di Campiglio e ancora qui a Madonna di Campiglio Sissi è ancora vissuta. C'è un bellissimo salone a lei dedicato, c'è una bellissima piazza a lei dedicata, c'è un bellissimo carnevale asburgico che ricorda quei tempi. Ne parliamo con Bruno Felicetti che è il direttore delle funevie di Madonna di Campiglio. Siamo allo Spinale, 2000 metri allo Spinale, alle nostre spalle le bellissime Dolomiti di Brenta con il Grostè, una bellissima schiaria. Allora, non dimenticate la storia di chi è creato questo paradiso turistico che è Madonna di Campiglio. Già nel 1800 si veniva qui a godersi questo paradiso che avete mantenuto e preservato ancora a disposizione di tanti turisti italiani e stranieri che vengono qui a Madonna di Campiglio estate e inverno. Sì, ci piace ricordare che Madonna di Campiglio è stata scoperta a Gliasburgo quando qui era ancora impero austro-ungarico, quindi Sissi fu portata qui da un membro della corte austriaca a fine 1800, inizio 1900 e una volta, lei fu a Campiglio tre volte e una volta arrivò anche addirittura con Franz Josef, il grande imperatore, per godere della bellezza di queste montagne. Lei veniva spesso, in estate ovviamente, perché allora lo sci invernale non esisteva ancora, però poi noi per ricordare queste radici, queste tradizioni, facciamo ogni anno il Carnevale asburgico, quindi nel periodo del Carnevale rievochiamo la presenza di Sissi, della corte degli Asburgo, il gran ballo nel Salone Ofer e ci abbiamo aggiunto la sciata con Sissi e Franz Josef, che è un po' tirata per i capelli, ma è sempre piacevole vedere queste principesse, l'imperatore, i cavalieri, che si sfidano in questo ballo sugli sci e come accompagna molto bello i grandi waltzer viennesi e quindi si crea una cornice magica e molto bella. Vi fa onore che non avete dimenticato che ha scoperto la vostra schiaria, chi ha fatto grande Madonna di Campiglio, oltre altre tre, ma anche l'impero austro-ungarico, un paradiso che avete mantenuto anche per i posteri, perché qui giustamente siamo nel cuore del parco dell'Adamello, le dolomiti di Brenta sono patrimonio mondiale dell'umanità, quindi aiutate il futuro delle nostre generazioni. Ovviamente anche noi come impiantisti ci stiamo interrogando sui temi centrali della sostenibilità ambientale, del climate change, noi quest'anno abbiamo fatto uno studio per capire quanta CO2 emettiamo nell'aria, abbiamo cercato di capire come si può diminuire le emissioni di CO2 e magari anche compensarle. Quest'anno Pinzolo per primo ha creato la prima stazione scistica neutral CO2, quindi neutrale, quindi vanno a ridurre le emissioni di CO2 e addirittura compensano l'eccesso di emissioni finanziando un progetto molto bello in India di una centrale idroelettrica. Noi come Folgare Marileva e Campiglio stiamo facendo un percorso analogo in un paio d'anni, penso che anche noi porteremo la sciata dei nostri sciatori ad essere a impatto zero. Siamo sui 2500 metri, il compressor scistico Gichberg-Joktal, una schiara facilmente raggiungibile dall'autostrada del Brennero, si esce a Bressanone, 12 chilometri e poi si può partire da Valles o da Maranza e si arriva in questa schiara di 55 chilometri di piste. Qui c'è una caratteristica figura molto bella, molto particolare, la Cavaliera delle Neve, una ragazza di Trento, Valeria Dallapè, che fa questa attività, intanto complimenti per l'abbigliamento. Ma quali sono i ruoli, i compiti della Cavaliera delle Neve? La Cavaliera è una figura che gira per le piste, aiuta un possibile cliente o un cliente o un bambino che cade o che si fa male o che comunque si è perso, quindi dà indicazioni. Dà indicazioni su come muoversi e dove andare, nata nel 2017 e per la prima volta una donna, quindi sei soddisfatta. Sì, quest'anno sì, all'inizio non ci credevo perché ho letto l'annuncio, l'annuncio era solo per uomini, cioè non era solo per uomini, però era riferito a un uomo, cerchiamo il Cavaliere delle Piste e quasi per gioco ho detto dai proviamoci, vediamo se sono così aperti da prendere una ragazza e alla fine mi hanno chiamato, ho fatto un colloquio e sono qua. Sei qua e vedo che ti diverti, sei molto aperta, sei un'animatrice delle Piste, possiamo dire? Sì, un'animatrice, un aiuto dai. Quindi aiuti le scuole di sci, i bambini quando sono in crisi e lo fai anche con gli anziani come sottoscritto? Sì, 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 tutti. Come sta andando la stagione? Bene, bene, molto molto bene. Quindi un'esperienza da ripetere? Sì, sicuramente, sarebbe proprio bello continuarlo anche d'estate, magari sull'Ucide. Poi fare la guida turistica, adesso che la montagna sta vivendo dieci mesi all'anno c'è bisogno di figure come questa. Eh sì. Perché non tutti sono esperti della montagna. Più che altro perché è una figura che aiuta il cliente o comunque un turista che viene da fuori, che non è abituato alla montagna ad aprirsi, a capirla e a sentirla proprio sua, come quelli che vivono qua. Perché noi, tra virgolette, siamo degli orsi, no? Da un turista che viene magari da Milano o da più in giù. Però non è abituato alla montagna, non è abituato al freddo, non sa come portare gli sci, non sa dove andare a mangiare, non sa qual è il piatto migliore. Cioè, e io sono proprio quella figura che ti aiuta a capire o ti dà il consiglio come se fossi, cioè... Diciamo un ufficio informazioni sulle piste. Invece di essere in uno stabile, al chiuso, ancora sei sulle piste. Vedo che sei abbigliato in modo eccentrico e divertente, quindi aiuti appunto i tanti sciatori che vengono in questa schiera, perché quest'anno qui è stato una delle stagioni migliori. Sì, sì, sì. Se abbiamo stimolato la curiosità di qualche amico telespettatore, maggiori informazioni sul sito? Gitzberg Yurtal oppure sui social media, da sempre di Gitzberg Yurtal. Siamo ritornati nella schiera di Peio. Peio è una bellissima località in alta Val di Sole, in Trentino. Peio, famosa per la sua acqua minerale, per le sue terme, ma anche per la sua schiaria, posizionata all'interno del parco naturale dello Stelvio, uno dei parchi più antichi d'Italia, fondato nel 1935. Per i nostri appassionati telespettatori, saluti qua anche a dicembre, c'era una grande nevicata. Siamo ritornati, altra nevicata. Siamo con Simone Pegolotti. Insomma, non esageriamo quest'anno con troppa neve. Guarda Floriano, se potessi scegliere, adesso sceglierei il sole, perché di neve ne è venuta abbastanza. Adesso abbiamo bisogno di belle giornate per ospitare i nostri turisti nel massimo comfort che Peio può offrire. Avete fatto un grande Sant'Ambrogio, Ponte dell'Immacolata, ottimo Natale. L'anno scorso tre mesi di sole, di siccità, con delle condizioni molto difficili, poca acqua, un'estate terribile per voi in montagna, tanta gente. Quest'anno invece, lo possiamo dire, la neve non manca, ora ci vuole il sole e fondamentalmente la guerra non ha, diciamo, respinto i turisti stranieri, il Covid, la pandemia, le bollette, il caro energetico, avete fatto delle formule pay per use, avete fatto il pay dinamico. Insomma, si scia con dei prezzi, diciamo, contenuti, la stagione si preannuncia un grande finale di stagione. Sono partite le settimane bianche, hai detto bene che è stato un grande Capodanno, un grande Ponte di Sant'Ambrogio un mese di dicembre che non vedevamo da tanti anni. I turisti stranieri fortunatamente non mancano, siamo pronti per questi periodi promozionali che abbiamo a gennaio e marzo e poi sarà un grande febbraio, mi auspico col bel tempo, ma siamo sicuri che è una grande stagione di ripartenza. Payo, famosa per la sua acqua minerale, per le sue terve, ma anche per essere una delle poche stazioni scistiche che arriva sino a 3.000 metri. Proprio qui, alle nostre spalle, c'è questo impianto, questa funivia che sale proprio nel cuore dell'Ostelio, del famoso parco, al cospetto delle montagne più belle del Trentino, l'Ortres, il Cevedale e la Presanella. Qui veramente si vive la natura a 360 gradi, si vive l'ambiente, la sostenibilità, si vive la natura. Arriviamo nel cuore proprio dell'Ortres Cevedale con un impianto di nuova generazione che trasporta 100 persone ogni viaggio, da 2.000 metri a 3.000 metri in meno di 6 minuti e poi c'è una pista meravigliosa che accompagna fino in fondo, fino in paese, fino a Paio Fonti, dove ci sono le terme con 8 chilometri di pista e 1.600 metri di dislivello da percorrere tutti in un fiato. C'è sempre più voglia di alta quota e voi ci siete? Noi ci siamo, questo garantisce con l'innevamento la sciabilità già dai primi di dicembre fino a Pasqua inoltrata, quest'anno arriviamo fino al 10 di aprile dopo Pasqua. Siamo con Paolo Gilmozzi, il presidente dell'azienda per il turismo della Valle di Fiemme, questa valle viva, questa valle attiva, regno dello sci di fondo, regno dello sci alpino, regno dei grandi eventi sportivi, una stagione importante iniziata alla grande, il 2023 in questa bellissima valle, una valle famosa anche per il suo legname, le sue abetà. In questa valle ci sono pensate 60 milioni di alberi, una popolazione di 20.000 abitanti, vuol dire che ogni abitante respira l'aria di ben 3.000 alberi. Se fosse la stessa proporzione nelle città della nostra Italia e del mondo, pensate che aria pulita buona e che aria potremmo respirare nei nostri polmoni. Con Gilmozzi parliamo di questo 2023 che è partita la grande, la stagione invernale con il ponte di Sant'Ambrogio, Natale, tanta gente, record di presenze, nonostante il momento difficile si preannuncia un grande 2023, una stagione invernale che avanti fino a Pasqua, dopo qualche giorno di ambientarsi si riparte con l'estate. Ormai la montagna, lo possiamo dire, vive 10 mesi, 11 mesi all'anno. Sì, intanto colgo l'occasione per fare un bel augurio di buon 2023 a tutti, veramente. Un 2023 che sarà auspicabilmente ricco di tanta serenità, di tanto stare assieme, di tanto tornare a poter vivere la nostra identità, in questo caso della valle di Fiemme, che riesce ad esprimere in tutti i suoi 365 giorni l'anno, perché la serenità è quello che veramente le persone abbiamo visto adesso in questo Natale appena passato, in questo Capodanno, in questo periodo dove tutti avevamo bisogno di poter tornare a vivere serenamente, a stare tra noi, a farci gli auguri guardandoci negli occhi, guardandoci parlare, vedendo le nostre bocche che si muovevano, perché così veramente riusciamo ad avere la serenità che ci necessita di portare avanti per un bellissimo 2023. Una valle di Fiemme che identitariamente, come dicevamo prima, fa in uno dei suoi must quelli che sono le quattro stagioni, per cui andremo avanti adesso per pensare di Marcialonga, passeremo la Marcialonga, arriveremo avanti, arriveremo alla Pasqua, che quest'anno viene un po' presto rispetto agli altri anni, per poi traghettarci direttamente in quello che sarà la primavera, la primavera, altri regrandimenti, un'altra Marcialonga che sarà alle porte per arrivare poi all'estate, all'autunno, per cui mescolare un po' tutto questo outdoor, questo poter vivere assieme a noi. Un momento della montagna, la montagna che nello sci alpino anche quest'anno farà uno dei suoi must, tra enogastronomia, ristorazione, quota, bei rifugi, mangiare bene, sciare bene, vivere all'aria aperta, saranno dei momenti veramente unici da poter passare assieme per un 2023, come diciamo noi, attrazione integrale. Siamo nella bellissima schiara della Paganella, siamo esattamente al Campo Scuola Rolli Marchi, un nome importante nel mondo della neve, un grande dello sci che ha fatto tanto per la montagna trentina, per la montagna generale e soprattutto per lo sci mitico ancora, il suo trofeo topolino di decine e decine di anni fa, grande scrittore, grande amante della montagna. Proprio qui al Campo Scuola di Rolli Marchi, nella scala della Paganella, incontriamo due presidenti di due scuole di sci, Marco Villotti della Scuola di Sci Dolomiti di Brenta e Maurizio Tassi della Scuola Fai della Paganella. Le due scuole si sono unite per un progetto importante che andiamo a presentare, Dolomiti Sport Emotion. Marco, tu sei il presidente di questa nuova iniziativa, una società sportiva, cosa vuol dire Dolomiti Sport Emotion? Dolomiti Sport Emotion vuol dire tantissimo, hai citato correttamente Rolli Marchi che è stato un futurista del mondo dello sci, del mondo della montagna, del mondo della montagna ci tengo a dire perché Rolli Marchi non guardava soltanto il mondo dello sci ma l'alpinismo e la crescita proprio alla divulgazione dell'emozione che può dare la montagna. Dolomiti Sport Emotion vuole proprio unire delle figure professionali a fare amare proprio la montagna a tutto tondo. Noi maestri di sci non siamo soltanto maestri di sci ma siamo anche guida alpine, accompagnatori di media montagna, istruttori di mountain bike e abbiamo tante altre competenze trasversali, specialmente nei nostri giovani, che vogliamo sviluppare e divulgare. Quindi l'idea qual è? Non solo la neve, quindi nelle tre discipline dello sci alpino, snowboard e fondo, sci di fondo, con le varie specializzazioni poi che ci sono dei vari maestri di sci, ma la montagna che deve vivere tutto l'anno, che non si deve spopolare, ma addirittura recuperare i nostri residenti, coloro che vivono sul territorio, ma non solo quelli ma anche chi viene in montagna con una certa continuità e seduità per creare dei nuovi professionisti. Quindi la divisa che portiamo, io e Maurizio vogliamo che la portino un domani tanti nostri giovani e non solo questa divisa perché devono diventare anche accompagnatori di montagna, guida alpine, istruttori di mountain bike e chi più ne ha più ne metta per godere proprio di questo fantastico mondo che è la montagna. Una bella iniziativa Maurizio. Sì, direi una nuova iniziativa, abbiamo in pista un progetto master rivolto all'utente che vuole migliorare la tecnica, che vuole prepararsi al gigante della selezione, che vuole superare l'autotest oppure che vuole fare tutto un percorso agonistico master e questo riusciamo a farlo dando un servizio di qualità, coinvolgendo nostri maestri giovani, ex atleti, con un curriculum abbastanza di spessore, maestri giovani che hanno frequentato il comitato, che ora sono allenatori e che offrono appunto il loro bagaglio tecnico e mettono a disposizione le loro competenze per dare la possibilità di raggiungere a tutti il proprio obiettivo. Ci sono 15.000 maestri di sci in Italia, può essere un bel trampolino di lancio per un futuro della montagna a 360 gradi, sì insegnare allo sci in mesi invernali, ma godersi la montagna tutto l'anno. Certo, direi che i numeri che hai detto te corrispondono alla realtà, ma la vera novità è che due scuole di sci, noi sul versante di Fai e la Dolomiti di Brenta sul versante di Andalo, si sono unite, hanno unito le competenze, hanno raggiunto un progetto con un unico obiettivo, questo direi che è proprio la vera novità del nostro progetto, di Dolomiti Sport Emotion. Se esaurienta Maurizio, maggiori informazioni, dove le troviamo? DolomitiSportEmotion.it, social, Instagram, Facebook, tutti i canali istituzionali, lì ci trovate, scriveteci, commentate le nostre storie e aspettiamo i vostri feedback per correggere il tiro eventualmente. Campionati mondiali di calcio conclusi a dicembre in Qatar, qualche polemica sugli stadi di calcio pieni di aria condizionata. Noi in Italia abbiamo gli stadi dove, anche in alta quota, ha 3.000 metri sul ghiacciaio Presena, non per il calcio ma per lo sci alpinismo. Siamo con Alessandro Mottinelli che organizza la Damello Ski Ride, una delle gare di sci alpinismo più belle al mondo. Ottava edizione e prima edizione nel 2007, Alessandro si è inventato lo stadio al ghiacciaio Presena. Unico caso è un stadio, ricordiamoci, non un stadio da decine di persone ma per gli appassionati, però fare uno stadio a 3.000 metri, Alessandro, è una grande soddisfazione. Sì, è uno stadio direi veramente a impatto zero perché noi l'aria condizionata l'abbiamo senza accendere nessun generatore, quindi il freddo sarà garantito. Abbiamo voluto premiare questi grandi atleti abbracciandoli al primo cambio a 3.000 metri prima di buttarsi poi nel mondo immacolato dei ghiacciai un ultimo assaggio di civiltà, quindi un caloroso applauso con tanta animazione, quindi un momento veramente emozionante e al ghiacciaio Presena, quindi riconfermeremo la Damello Ski Ride Stadium. Stadium 25 di marzo, partenza alle 5.30 dalla stazione intermedia della tonalina fra Ponti Legno e il Tonale per la Damello Ski Ride, 42 km di corsa fino al ghiacciaio Presena, poi l'incontaminato pian di neve, i 3.539 metri della cima della Damello e poi 2.000 metri di dislivello per arrivare a Ponti Legno. Quest'anno anche il campionato del mondo di lunga distanza, previsto tanto pubblico ma soprattutto il gota dello scialpinismo disciplina olimpica Milano-Cortina 2026 per la prima volta. Sì, uno sport che sta crescendo tantissimo, l'inserimento nelle Olimpiadi, nel programma olimpico ha fatto fare un salto di qualità incredibile, sono tornate tutte le squadre militari in tutto il mondo, quindi in questi giorni e fino alla Damello Ski Ride abbiamo la squadra cinese, ospite di Ponte di Legno, quindi 30-13 cinesi che vedrete allenarsi sulle nostre montagne e quindi anche questo è un premio. La Cina ha scelto Ponte di Notonale per i propri allenamenti. È una cosa molto importante per uno sport che speriamo nel 2026 abbia una grande visibilità e porti sempre più appassionati a questa bellissima disciplina. Intanto la grande visibilità ce l'avrà sabato 25 di marzo, ricordiamo l'ottava edizione di lei, la grande, mitica Damello Ski Ride. Assolutamente, il 25 marzo ci divertiamo tutti insieme, chi fa la gara, chi assiste e soprattutto per il pubblico devo dire è un'emozione poter vedere questi grandissimi atleti che ora, ripeto, sono diventati dei professionisti con delle prestazioni incredibili. E chi non viene qua a Ponte di Legno lo può dire in televisione sportador.tv il sito ufficiale della manifestazione e delle riprese televisive. Schirama Dolomiti ad Amelo Brent è un compressore oscillistico che raduna otto eccellenze turistiche della nostra Italia del Trentino occidentale. Le otto località sono partendo da est verso ovest Folgaria, il Bondone, Pinzola, Madonna di Campiglio Folgaria e Marileva Peio, sino ad arrivare al Passo del Tonale con Ponte di Legno. Insieme le otto località fanno 380 km di piste un modo molto valido per promuovere lo sci in Italia e all'estero. Siamo con Christian Gasperi che è il direttore generale delle funevie di Folgaria e da Marileva è importante fare unione insieme si vince e Schirama è una scelta vincente fra le vostre otto località sciistiche. Sì, questo vale sempre in tutti i settori l'unione farà forza queste otto società dello Schirama condividono molto insieme strategie anche commerciali e questo ci consente poi di competere a livello internazionale. Noi poi nella Schiaria Campiglio Dolomiti di Brenta abbiamo i nostri 150 km di piste quindi parliamo di 100 piste serviti da 60 impianti e dove cerchiamo di diversificare con diversi servizi e prodotti. Voi siete diciamo la schiara più importante di Schirama 380 km in totale ben 150 li fornite a voi quindi è una scelta importante c'è voglia di fare settimane bianche c'è voglia di stare di più all'aria aperta quindi uno può andare a sciare al Bondona a Folgaria sulla Paganella e poi venire anche a sciare qui da voi quindi diciamo c'è un movimento importante che fa conoscere il Trentino e la vostra qualità sciistica. Sì certo quello è l'obiettivo di dare uno skip pass dove il cliente possa girare a proprio piacimento. Poi al nostro interno nella schiarea uno parte da Folgaria arriva a Pinzolo passando per Campiglio abbiamo poi diciamo delle zone tipo Folgaria da Manileva con quattro femmini park in quota Campiglio che ha il suo Ursus Snow Park direi che è uno snow park veramente eccezionale per quel target di Clintela per arrivare poi anche a Pinzolo dove ci sono delle piste un po' particolari come anche la Tulot che è l'unica in Italia per uno sport anche adrenalinico. Schirama ha avuto un grande inizio di stagione quest'anno qualche preoccupazione dopo l'estate per la siccità per la guerra per la pandemia però con l'apertura di stagione i primi di dicembre si è fatta una grande diciamo promozione autostima importante per il mondo della neve. Sì esatto in tutto lo Schirama è andata bene all'inizio di stagione poi abbiamo la promozione Friski quindi tessera Super Schirama con la formula All Inclusive posto letto con Ski Pass a inizio stagione tornerà poi anche a marzo nelle settimane di bassa stagione e questo consente un po' la circolarità tante provenienze dall'Italia ma altrettanto dall'estero questo significa che la voglia di vacanza è veramente molta. Alla Nolle qui qui l'inverno è pieno di calore quello delle chiacchiere degli amici quello del silenzio ovattato del relax respira sei in Trentino Road to Fiemme Marilleva Sanice fatti di sport Val di Fiemme Peio Road to Winter World Master Games Lombardia 2024 Dal 12 al 21 gennaio 2024 la Lombardia in Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30 Dolomiti Super Ski Paganella Ski Ciao Gio Come fai ad essere già qui che c'è una cosa passata? Ecco questo Gio quello ski pastale questo ordine online ti arriva a casa anche il 15% di cashback tutti i giorni tutti i giorni tutta la stagione veramente? Eh sì Adesso vieni con me che ti insegno a sciare in backside La caspolata al chiaro di luna la camminata con le caspoli notturna più partecipata d'Italia sabato 4 febbraio a Vezzadoglio in Alta Val Camonica a Vezzadoglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti